E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andiamo a parlare, come avete già letto dal titolo, la nuova collaborazione con DC per Fortunet Allora, prima di tutto volevo dirvi di lasciare like, iscrivervi e se siete meno iscritti, ovviamente, potete accedere al gruppo Discord Dove possiamo giocare tutti insieme Comunque, dopo detto ciò, andiamo a leggere le informazioni Grazie per Fortunet News che ci dà tante informazioni come ogni volta E quindi, Batman per Fortunet, la miniserie del punto zero è stata annunciata Sarà disponibile il 20 aprile Praticamente sono tantissimi fumetti ispirati sia alla storia di DC E sia a quella di Fortunet Quindi saranno questi sei fascicoli Dovrebbero ispirare sia alla storia di Fortunet e sia alla storia di DC Comunque, in questi due Cioè, non solo in questi due Comunque, in tutti i fascicoli, che ne sono sei Se le andrete a comprare tutte e sei Avrete la possibilità di avere un codice Per riscattare la nuova variante di Halloween Quindi, per chi ha già le win O comunque vuole avere questa variante Può averla inserendo questo codice Infatti, pensano che la skin Può ritornare disponibile ad aprile Il 20 in questo caso Perché esce comunque anche il libro Però non sono sicura Quindi, non lo so Non dico una data specifica Dovrebbe essere intorno ad aprile Perché comunque, essendo lei una variante Dovrebbe uscire anche la skin Per chi magari non l'ha riuscita a prendere quando c'era E quindi, c'è un possibile ritorno di questa skin Presto arriveranno nel gioco Molte nuove skin e cosmetici di Sea Questo nuovo stile è solo uno di quei cosmetici Il trailer dalla miniserie Una grepa squarciata Questa sarebbe, diciamo, la premessa Una grepa squarcia il cielo Sopra Grom City Non so se l'ho letto bene Una lacrima della realtà stessa Questa spaccatura trascina il Cavaliero Scuro In un modo bizzarro e sconosciuto Senza alcun ricordo di chi sia O da dove provenga Batman è entrato nel mondo di Forter Quindi, ok, questa è la premessa, diciamo, di questo fumetto Comunque, questa è un'altra foto Dello stile aggiuntivo di Harley Quinn E le altre informazioni su questa nuova collaborazione Quindi, sì, quindi avremmo uno stile Non solo, quindi, quello riscattabile Nei fumetti di Harley Quinn Ma anche Batman protetto da una specie di armatura Che sarà sbloccabile comprando i fumetti Ah, ok, quindi sia lo stile Ah, ok, quindi sia lo stile Ma non ho capito se lo stile di Harley Quinn Anche esso si trova nei fascicoli Cioè, ci sono due tipi di stili Perché, allora, qua dice Avremo uno stile di Batman Protetto da una specie di armatura Che sarà sbloccabile comprando i fumetti Quindi sbloccheremo praticamente Batman Se comprate i fumetti Ogni fumetto di Batman.0 Che acquisti Avrà un codice per un cosmetico di SISUF Ah, ecco Quindi ogni fumetto di Batman Contiene un codice Con un cosmetico diverso Quindi, che ne so In quello troverete Batman Nell'altro potete trovare Harley Quinn Nell'altro ancora potete trovare, che ne so Un altro stile della mazza Non lo so Una nuova skin Harley Quinn Rinata Non sarà una variante dell'attuale skin Ecco Già mi avete smentito Ok Quindi sarà proprio un'altra skin Non sarà uno stile Ok La nuova skin di Harley Quinn Rinata Non sarà una variante dell'attuale skin Ma sarà disponibile tramite Il codice bonus Nelle versioni stampate del primo numero Nei fumetti di Batman Ok Quindi praticamente Dovete acquistare i libri Infatti in questo caso Mi sembrava strano Che avreste avuto solo una variante Di Harley Quinn Perché sennò Sbloccherete Tutta la skin Tutte le tre skin Diciamo E infatti C'è tutte le due varianti Infatti In questo caso Avrete solo questa skin Quindi Se troverai tutti e sei i codici Completanti i fumetti Avrai a disposizione Un cosmetico bonus Batman versione punto zero Con l'armatura Come avremmo detto prima Secondo il tester Della miniserie Batman e fortnite punto zero Descrive cosa accadrebbe Se avessi intrappolato Il più grande detective del mondo Da qualche parte Senza alcun ricordo Di chi sia In un luogo Che cambia Costantemente Scopri tutte le sorprese I colpi di scena E misteri Che hanno In serbo per lui Ci teniamo a specificare Che i fumetti Non sono ancora disponibili Tutte le informazioni Sono al momento Sconosciute Abbiamo solo la data Del rilascio Quindi ragazzi Se provate a scrivere Non troverete Nessuna cosa Di fumetti Allora Poi ci saranno Due tipi Questo non ve lo leggo Perché l'avevo già letto Praticamente Ve lo abbrevio Ci saranno Due tipi di fumetti Che uno avrà Quindi il basico Quindi se è solo Un fumetto e basta Ci saranno i codici Invece c'è Un fumetto base Più carte giocabili Che Allora Hanno gli stessi Identichi codici Tutte e due tipi Ma Cioè Cambia il fatto Che Sono tutte e due Gli stessi fumetti Solo che A uno Troverete le carte E l'altro Troverete solo i fumetti Praticamente La Cioè la differenza Di prezzo È solo di un euro Praticamente Anche se qui Riporta in dollari Quindi Non so In euro Quanto sarebbe Comunque Poi Quindi Ricapitoriamo Tutto Quello che abbiamo detto Saranno rilasciati Sei numeri Che l'avevamo Letto prima Ogni numero Costerà Vabbè E contiene Un codice Riscattabile Quindi tutti Tutti e sei Avranno sei premi Diciamo così Gli abbonamenti Salute intensi ADC Universa E Infinity Riceveranno La serie Gratuitamente Ok Il riscatto Dei sei codici Sbloccherà Un nuovo assire Del Batman.0 E li lascio Il 20 Aprile 2021 Quindi Praticamente Prenderete Praticamente Sette premi In tutto Comprando Questi Soli Sei Libricini Fascicoletti Già E Poi Invece Ci dicono Che comunque Ecco tutti i paesi Che avranno i fumetti In lingua originale E non tradotta Quindi Noi Non rientriamo In quella lingua Vedi i paesi Che non vengono citati Riceveranno i fumetti Tradotti In questo caso Noi italiani Non ci apposchiamo La lingua tradotta Ma Sarà In inglese Penso Penso di sì Comunque La cabba Sto tradurli Quindi Non è difficile Certo Non capiremo Le battute Però Vabbè Almeno avremo Dei codici Da riscattare Almeno quello Allora Informazioni aggiuntive Ogni codice Riscattabile Garantisce Un nuovo Cosmetico Ci saranno Versioni Digitali Dei fumetti E i numeri Verranno Spediti Due volte Al mese A partire Da maggio E giugno Ah ok Comunque poi A confermare Di questa cosa Quindi Che tutta questa cosa Sia vera E che Donald Master Ha cambiato Il suo banner Con Guardate un po Batman Batman Che aveva La sua versione Sia con Un altro tipo Di armature Sia quella Del punto Zero Infatti E un'altra cosa Molto strana E che Donald Master Ha cambiato La sua posizione Quindi Dal clan Di quello Dei Combattenti Quelli Dei ninja Al punto Zero Perché C'entrerà Qualcosa Con l'armatura Di Batman Che è Del punto Zero O Sarà Un'informazione Per 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 la prossima Stagione Comunque Prima di lasciarvi Ho un'altra News Da dirvi Che non c'entra Assolutamente Con di si Ma Come avevo già detto Insieme a Drift Nel video Se Non l'avete visto Andatelo a vedere Che Praticamente Cosa succederà Martedì Ci sarà L'aggiornamento E potremmo scoprire Finalmente Se ci sarà Questo evento Finale Oppure Non ci sarà Assolutamente Nulla Quindi Io vi lascio Con questo dubbio Commentate Se secondo voi Ci sarà L'evento Finale Oppure No Io ho detto Questo Mi lascio Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao